Buongiorno bambini, oggi vogliamo proporvi un gioco per risvegliare i piccoli detective che vivono in voi. Ci troviamo nella sala navigare nell'arte che racchiude una splendida collezione di dipinti di marina. Ve ne proponiamo uno in particolare dal titolo Pescatori Issa non reti. Vediamo se siete attenti. La nave in primo piano ha tutte le vele aperte? No, bravi siete stati attenti, una vela è ammainata. La pesca è andata bene? Sì, nelle reti si vedono dei pesci e addirittura ci sono uomini che con dei retini aiutano nel recupero del pesce. E il mare di che colore è? Vi vedo titubanti, non siete sicuri eh? Riguardiamolo con attenzione. Adesso provate a individuare il fanale dell'imbarcazione. Bene, ora provate voi a disegnare un particolare di questo dipinto e poi postate i vostri disegni sulla pagina Facebook del Galata Museo del Mare. Grazie. 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 Grazie.